Po 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 quarantena stampa Po 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 quarantena stampa po 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 Buongiorno a tutti i signori e benvenuti in questa nuova puntata della quarantena stampa Tec l'unica quarantena stampa, l'unica rassegna stampa dove si danno notizie serie Tec in modo poco serio Oggi edizione straordinaria signori E' stato dissato il famoso youtuber canadese che qui vediamo vestito con sandali e calzini E mi dispiace per voi il dissing purtroppo non prevede questo Ma prima di raccontarvi i fatti delle giornate precedenti di questa giornata Andiamo avanti con lo sponsor Mancano un po' di fps Ancora pochi Ecco Mo va meglio Volete anche voi la vostra spada laser lampada rgb per fare più fps? E sta il link in descrizione Grazie mille signori dello sponsor Parliamo quindi di Linus Tech Tips Linus Tech Tips Il più famoso e grande canale di tech su tutta YouTube Ha ricevuto un dissing Neanche troppo pesante Per quanto riguarda la situazione della componentistica Aggiungerei chi lo avrebbe mai detto Il caso sembra partire da un'iniziativa che la Linus Media Group L'azienda messa in piede dal nostro caro amico canadese Ha voluto istituire un programma che facesse in modo che le componenti Arrivassero direttamente a quelli che loro chiamano Actual Verified Gamer Infatti si chiamerà Actual Verified Gamer Programme Che cosa prevede questa cosa? Prevede che loro mettano su un sistema Raccolgano delle componenti Per venderle effettivamente a dei giocatori A dei prezzi calmierati E' tenero e quando anche tragico E allo stesso modo come posso dire Poco edificante per la persona umana Il fatto che debba mettersi un influencer A creare una cosa del genere Poiché nessuna azienda fino ad oggi ci abbia mai pensato Manco per tanto così dei loro prodotti Il fatto sta che comunque questa iniziativa Per quanto inizialmente sembrasse Avesse essere entrata nel cuore delle persone In realtà molto presto si è rivoltata contro Poiché in realtà molte persone hanno iniziato a pensare Che dietro ci fosse un profitto Da parte della tale azienda Linus Media Group Soprattutto quando hanno iniziato a vedere Che il lancio di questo programma Veniva rimandato di giorno in giorno E io a questo punto direi Grazie al ciufolo che ci doveva essere un profitto Anche perché questi mica possono far tutto gratis Non lo fa una multinazionale Perché pretendete che lo faccia Linus Anche se credo che alla fine il profitto di Linus Sia sicuramente molto inferiore A quello di Scalper o altre persone Nonostante questo Ad incendiare la questione Non è stato soltanto questo Actual Verified Gamer Program Ma è stato vedere Tutti questi componenti In mano a Linus Che faceva un video Mentre sponsorizzava NiceHash E NiceHash Adesso ne parliamo un attimo Cos'è NiceHash? NiceHash è uno di quei programmi Che serve essenzialmente Per fare mining Fatto in casa Voi prendete la vostra scheda Accendete NiceHash E NiceHash va avanti Ora ci sono delle problematiche Che sono andate così A toccare l'etica Dello stesso Linus La prima Hai tutti questi componenti E ti metti a sponsorizzare mining Diciamo che non funziona esattamente così Però cari ragazzi Se io ho così tanti componenti Da potermi fare una farm Da 47 gigas Al secondo Non mi metto a minare Con NiceHash Anche perché Poi l'altra critica Che sarà mossa E' proprio su NiceHash Dovete sapere Che un software come NiceHash Non vi fa minare Direttamente Criptomonete Ma essenzialmente Agisce come un intermediario Quindi praticamente Vende la vostra potenza Di calcolo A qualcun altro Che paga per averla E questo A darvi il profitto Non il mining Del blocco Oppure le fee Dopo aver minato il blocco A creare poi Ulteriore problematica Su questa cosa E sul fatto che Linus Avesse sponsorizzato Questo servizio Che è NiceHash E' NiceHash stesso Diciamo che All'interno di NiceHash E' tutto Molto abbastanza Fumoso Lo stesso proprietario Di NiceHash Ha come posso dire Addosso Più di qualche Denuncia Condanna E altre cose Per reati Neanche troppo piccoli E inoltre Sono stati Da poco Protagonisti Di un Piccolo Screzzo Come posso dire Perché c'è stato Come posso dire Una piccola accusa Contanto di prove E contanto anche Come posso dire Di affermazioni Per screditare Uno dei più famosi Programmi Per il mining Che è PhoenixMiner Infatti NiceHash Che è da diverso tempo Che tenta di lanciare Il suo programma Miner Del suo programma Adatto a minare Il proprio proprietario Di NiceHash Fatto da loro Ha iniziato Una campagna A quanto pare Diffamatoria Ne confronto Di PhoenixMiner PhoenixMiner Che è stato Per molto tempo Il programma Di mining Uno dei programmi Di mining Più utilizzati Perché a quanto pare Di punto in bianco Non si sono più ritrovati Tra l'eseguibile Che loro avevano E praticamente Quello che era Il rete Insomma In poche parole C'erano praticamente Una chiave Che non dava bene Via l'origine Di questa cosa Al che inizialmente Ha creato Molta titubanza All'interno Di tutta la community Del mining Anche perché Molti di quelli Che utilizzavano PhoenixMiner Sono stati spaventati Da queste affermazioni In NiceHash Credendo comunque Di trovarsi davanti A qualcuno Che voleva Semplicemente Cercare di fregargli I dati In realtà La situazione Era molto più semplice L'account PhoenixMiner L'account di PhoenixMiner Di Mega Dove era ospitato Appunto Questo PhoenixMiner Per essere lo stato È stato chiuso Per violazione Dei termini A quando si è capito A Mega Non piace Che ci siano software Per minare Dice Metteteli su GitHub Perché li mettete su Mega Quindi è stato Cancellato L'account Di PhoenixMiner E quindi non era più possibile Scaricarlo Dalla repositori principale Giustamente NiceHash Cosa ha fatto Siccome tra l'altro Avevano contatti Direttamente Con i produttori Di PhoenixMiner Hanno prima Lanciato la bomba Dicendo PhoenixMiner Rischia di farvi Bruciarvi tutto Formattati PC Eccetera eccetera Doveva aver lanciato La bomba Li hanno contattati Per chiedere Cosa è successo Cioè avete capito bene Loro prima Hanno fatto Come posso dire Casino Su PhoenixMiner E poi sono andato A chiedergli Che cosa fosse successo Non il contrario Già questa cosa è divertente Al che PhoenixMiner Ha risposto Che guardate Questi tizi Già diversi mesi fa Circa sei mesi fa Avevano chiesto Di rendere pubblici Il codice sorgente Di PhoenixMiner In modo che loro Potessero Autenticarlo In realtà A quanto pare Sembrava un tentativo Abbastanza goffo Di appropriarsi Della tecnologia Di PhoenixMiner PhoenixMiner Per andare poi A migliorare A procedere Con appunto Il miner Proprietario Di NiceHash Tutte queste notizie Che ovviamente Sono saltate fuori Tutte insieme Nel momento in cui Un pesce grosso Come Linus Ci ha messo Tra virgolette Le mani sopra È stato Molto 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 Catastrofico Mettiamola così Ovviamente ragazzi La situazione è molto Più semplice di così Il buon Linus E la buon Linus Media Group Che giustamente Campa di pubblicità E di questo lavoro Ha cercato effettivamente Di fare un'azione Benefica Nei confronti Tutti i gamer Cercando di attuare Un programma Che qualcun altro Doveva impegnarsi Di fare Per far avere Dei componenti Sempre con un sovraccosto Ma magari leggermente Minore A persone Che utilizzerebbero La loro scheda video Per giocare Allo stesso modo Però riconoscendo Comunque la situazione Comunque tutto quello Che sta accadendo Nel mondo Lo stesso Linus All'interno del video Ha detto Se voi avete una scheda video Che già pagate Un pochettino di più E avete la possibilità Di metterla in casa A fare delle cose Mentre non state facendo niente E recuperare qualche soldo Perché non farlo Il che è ancora più sensato Quindi diciamo Che alla fine Il dissing Che la community O soprattutto gli hater Di Linus Gli hanno portato addosso È tutto molto fumoso Come posso dire C'è un piccolo 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 Da noi verrebbe chiamato Complottismo Però non voglio Non vogliamo Qui in questa Quarantena stampa In questo TG Andare a scomodare Parole così grosse Sarebbe veramente deleterio Quindi signori Nel giro di circa Sette giorni Inizia e chiude Inizia e si chiude Il cerchio Attorno al dissing A Linus Noi ovviamente Speriamo che questo Actual Verified Gamer Program Arrivi il più presto possibile Che possa aiutare Quanto meno I nostri amici americani Anche se in realtà Linus ha già detto Che sarà un programma Disponibile A tutte le persone Del mondo Staremo a vedere Nel frattempo È sempre bello Che qualcuno Ci metta l'attenzione Magari anche Qualcun altro Qualcun altro Potrebbe pensare Di fare qualcosa simile E con mezzi Che possono essere Anche superiori A quelli Dello stesso Linus Detto questo ragazzi Ulteriori aggiornamenti Arriveranno Giustamente La live Delle 5 Per andare a spiegare Bene nei dettagli Tutta la situazione Soprattutto quello Che è successo Tra Nice Ash Phoenix Miner E tutto quello Che Nice Ash Diciamo Ha fatto di poco Pulito Mettiamola così Quindi ragazzi Mi raccomando Noi ci vediamo Domani Sembra la stessa ora Quarantena stampatech Domani sarà Una giornata Molto particolare Perché domani Tenderemo E proveremo A comprare Una 6007XE Arrivederci